Ieri sera alla Chiesa dello Spirito Santo l'antico organo settecentesco appena restaurato è tornato a incantare il pubblico nell'ambito del nono festival Zipoli. Allora sentiamo Serena Travaglini. L'antico organo della Chiesa dello Spirito Santo risalente alla prima metà del settecento e appena restaurato è stato inaugurato ieri sera nell'ambito del nono festival Zipoli. L'intervento di manutenzione straordinaria del vecchio organo barocco dello Spirito Santo è stato interamente finanziato dal Lions Club di Prato e condotto dall'organaro Riccardo Lorenzini di Montemurlo. Siamo qui nella Chiesa dello Spirito Santo ad ascoltare la voce di quest'organo prezioso del primo settecento restaurato da Riccardo Lorenzini di Montemurlo e abbiamo l'onore e il piacere di avere un importante organista fra di noi che è venuto dall'Austria per l'esattezza dall'Inz, il maestro Gustav Ausinger che ci spiegherà come Zipoli è apprezzato molto anche al di fuori dell'Italia. La cassa e la cantoria dell'organo sembrano risalire al 1741 mentre l'organo contenuto all'interno della cassa fu realizzato già ai primi del settecento dall'organaro romano Lorenzo Testa. A rendere il secondo appuntamento del Festival Zipoli ancora più pregevole è la presenza del noto maestro austriaco Gustav Ausinger che si è seduto alla tastiera dell'antico strumento appena restaurato. Il concerto ha spaziato dalla musica rinascimentale fino a quella galante attraversando lo stile barocco. Sono contentissimo di avere la possibilità per un concerto in questa chiesa, su questo organo affascinante e per me Zipoli è un attore molto importante perché era il mio primo attore italiano per musica d'organo che ho conosciuto. Questo organo secondo me va molto molto bene per la musica di Zipoli ma anche per la musica dell'epoca anche di autori come sono stasera vienesi. Il prossimo appuntamento del nono Festival Zipoli è per sabato 12 dicembre presso la Scuola di Musica Verdi con la presentazione del CD dedicato a Zipoli alle 18 e a seguire la serata musicale.